La vita cristiana La potenza è importante Tutti i giorni ricever potenza è importante Allora vincerete sulla paura Cosa vuol dire avere paura nei sogni? La paura del futuro Cosa succederà di me? Voglio andare all'estero col passaport Ho la paura Ho il figlio, voglio il contratto fisso E dopo l'indeterminato ho ancora paura Finché Finché Voi non ricevete la sua potenza Non riuscirete a vincere questa paura Il mio figlio unico se gli succede qualcosa cosa faccio? Avete bisogno della potenza Perché quando ce l'avrete La paura scapperà da voi? Riuscirete a vincere la paura La paura della vita Un brufolo che vi arriva Un brufolo che vi arriva Un cristiano che non è sensibile alla potenza non può avicare la paura potenza non li ha summer the road or da suveri mangolo da suveri summer trapparuga e ci volte lo chiedete 10 volte ve lo da equerini cani vari da suveri mangolo o venti volte haru varita no samarthana parega ogni volta vi darà la potenza hallelujah 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 hallelujah